Ma io vado da Gabriele Bonci perché oggi ci insegna a fare la pizza in casa, poi lui è il re della pizza, andiamo da lui Allora Gabriele Bonci, l'abbiamo detto prima Vogue America ti definisce il Michelangelo della pizza, ma a parte Vogue America che poi gli americani davvero hanno molta fortuna No no, hanno molta fortuna ad assaggiare i nostri prodotti perché sono rimasti quasi gli unici intatti al mondo Noi italiani cosa diciamo Anna? Che è una pizza pazzesca Pazzesca perché adesso lo spiegherà Gabriele, dire bene le dosi, Gabriele dire bene queste dosi perché dobbiamo tutti impararla, io per prima Come si fa la pizza buona? Innanzitutto la cosa molto importante per la pizza buona è la manualità, la stesura e la cottura Il 90% di un prodotto riuscito è proprio dato da questi tre elementi Manualità sull'impasto, sulla stesura e sulla cottura Alleniamo le mani Allora diciamo subito come si fa l'impasto, una cosa molto veloce Allora farina in una bowl grande, parliamo di un chilo di farina Quale farina? Allora farina io uso solo le rimacinate a pietra Rimacinate a pietra tipo 1 o 0 0 o 0 scusate Tipo 1 che è la buratto insomma Grani italiani Ok? Non sei convinta Anna? Eh sì no perché io con le farine ho un problema grande No ma la farina è grande Grani italiani e soprattutto Soprattutto che abbiamo, sappiamo di che mulino sia Perché il mulino è la cosa Va bene, la carta di identità della farina mi raccomando Un chilo di farina con Un chilo di farina mettiamo 800 grammi d'acqua Quindi un 80% E cominciamo a impastare Viene un impasto morbidissimo A questo punto, vediamo Cominciamo a mettere il lievito Allora, do alla ricetta un lievito secco di birra Quindi è un lievito di birra dove manca l'acqua Se avete a casa il lievito naturale Che è la cosa più bella del mondo Il lievito madre? Il lievito madre, eccolo qui Questo è il lievito madre di Gabriele E gli è stato donato da una famiglia Ma quanti anni fa? Questo qua viene da un forno di Vercelli Che dice che praticamente è stato un soldato panificatore Della prima guerra mondiale E dalla prima guerra mondiale è arrivato fino a qua E come si fa? Basta rigenerarlo, portarlo in vita, tenerlo avanti Allora, allo stesso peso del lievito Si aggiunge la farina E il 50% è uguale a acqua Noi gli diamo da mangiare Perché dentro c'è una popolazione stupenda di batteri Che cosa fanno loro? Vedete? È importantissimo Ma non gli hai fatto male così l'hai tagliato? Assolutamente no Non bene Questa è soltanto una casetta per loro Fermo, fermo Va bene? Eccolo qui Qua gente ci sono i batteri quelli buoni Noi gli diamo da mangiare Quindi loro mangiano zucchero Ecco E riproducono l'anidria carbonica Tu di quanti anni ce l'hai? Eh, me l'ha dato Gabriele Ah, ecco Solo che io ho un problema Gabriele Domenica ho fatto Avevo un chilo di lievito madre Ho fatto tanto di quel pane Che credo che nel mio palazzo Era diventato un pane Ma anche la broda di cuoco ha mangiato solo il pane della Moroni Quindi Va bene Continuiamo con l'impasto? Ok, gli diamo tutta quanta l'acqua E lo facciamo diventare una pastella Non ci mettiamo paura se l'impasto è liquido Se si appiccica alle mani E quindi non aggiungiamo mai altra farina Lo teniamo abbastanza morbido Proprio così Deve essere una pastella Cos'è quella? A questo punto il sale Ancora Ancora un goccino d'acqua dopo il sale Senti Gabriele, posso farti una domanda Che forse te lo chiederebbero tutte le nostre aspettative Perché tu hai usato il lievito oleofilizzato? Messe del lievito Alla, il lievito oleofilizzato è il lievito sicuro Il lievito di birra, quello in panetti Cioè quello umido, bagnato Non si sa che vita ha fatto Se chi l'ha portato dall'alimentare in un furgone Ha da uno sbazio di temperatura Il lievito oleofilizzato rimane fermo Rimane lì? Certo Ok Olio? Olio a questo punto E bastano due cucchiai Va bene Mettiamo l'olio E Mantechiamo E lasciamo l'impasto abbastanza umido Così Per quanto deve rimanere lì? Senza finire Dieci minuti Così Rotto Stracciato Va bene Va bene Dopo dieci minuti Lo riprendiamo in mano E io ne ho portato Uno L'impasto Va bene Già pronto Lo riprendiamo in mano Vedete com'è morbido È morbidissimo E gli diamo una Cioè è più morbido Io l'ho toccato del mio cuscino E gli diamo una piega Ok? Le pieghe servono ad asciugare l'impasto Come diamo le pieghe? Così Semplicissimo Il taglio Sempre sulla nostra pancia Ma pensa come tratta questa pizza È semplicissimo Se provate a casa E piano piano Che noi facciamo girare Quest'impasto Si asciuga Si asciuga Quindi non ci mettiamo Quale parina usa Come appoggio? La semola La semola Sempre nel mio mulino piemontese E una senatore capelli Ma allora c'è qualcosa Che ci unisce Certo Hai visto? Allora poi A questo punto che succede? Dobbiamo Lo mettiamo in frigorifero Va bene? Sì In frigorifero per 24 ore Sulla parte bassa del frigo Dove Noi teniamo le verdure Bravo Questo è importantissimo È importantissimo Perché è la parte dove Ha meno shock Dove c'è più umidità E lì l'impasto sta bene In quella parte lì Poi cosa otteniamo? A questo punto otteniamo Questo impasto Io vedo l'ora di assaggiarlo Altro che Un impasto del genere E qui comincia la magia E questo è il buono Sta sulla stesura Stendiamo l'impasto In questa maniera Mi prepari una teglia? Sì sì Certo Basta mettere la vicino Sono coiutante Grazie Allora La stesura Va sul tavolo Sì Quindi quando noi facciamo Le pezzature Eh? Aspettiamo che cresce Guarda che bella Come ti regoli Come quantità Per una teglia Allora una teglia del genere Considera su un forno casalingo Sono circa Seicento grammi Seicento grammi Mezzo chilo Ok? Lo allunghiamo La teglia? La teglia qui E facciamo questo movimento Guardate bene La tiro su La poggio La Batto la farina E la metto sulla teglia Ecco perché a me mi si rompe sempre E io sistemo di nuovo Ok? E ora? Adesso me la sistemo Sembra quasi che parli Allora adesso facciamo vedere Oh mazza Sembra che l'hai sempre fatto Sei bravissima Bene bene Va bene Basta così Bravissima Allora A questo punto facciamo vedere Una pizza con le verdure Eh? Io ho scelto il broccoletto Perché il broccoletto È meraviglioso È bellissimo Questo è il momento Questo è il momento Anche tu sei stagionale Quindi Molto stagionale Rispetti la stagionalità dei prodotti A questo punto succede Metto a crudo Sì A crudo Le mie cime di rapa Sulla pizza Che buone Che buone Che buono Che sono meravigliose Sì Ok Il broccoletto è questo Sapore di creme Di rapa È amaro Quindi manteniamo tutti quanti Ma questa è una pizza ripiena Questa è una pizza ripiena Non ci metti ne olio e ne sale? Non ci voglio mettere niente Perché la voglio cuocere con il vapore stesso Mamma mia Anche perché In due minuti ce la facciamo? Ma ce l'ho già pronta Dopo la vediamo Allora a questo punto la metto ancora sopra Ma ti aiuto io? Sì Mi ha detto che è come se l'avessi sempre fatto Guarda Bravissima Bravissima Senti Gabriele Però a me Guarda Tu adesso mi devi spiegare una cosa Perché io delle volte Ho anche io quei cubetti di lievito Quello che possiamo dare Se io ce l'ho bello fresco Lo uso ugualmente Ma certo 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 Come no A questo punto metto È buono uguale? Sì L'importante è che quando la apriamo Guardiamo se lievito scaglia Ah ecco Se fa la scaglia E il colore anche Il colore sì è importantissimo Soprattutto la scaglia Perché vuol dire che l'acqua c'è stata E è tutta apposta Allora A questo punto ho fatto questa pizza Quanto è buona Qua Ok Allora Il forno La cottura È importantissima Un capitolo a parte Allora Partiamo sempre mettendo la pizza sulla base Ok Quindi sotto A metà cottura Ci regoliamo Da qui Passa nella parte sopra Perché ha bisogno Della spinta Il forno Massimo calore È acceso Quanto tempo prima? Lo dobbiamo accendere Finché non raggiunge il calore Quindi basta un quarto d'ora prima Allora guardi Ti faccio passare di qua Anna grazie per tutte queste domande Meno male che ci sei tante Ma no perché io sono fissata con la pizza Tesoro mio Tu lo sai È bellissima E per quanto tempo Togliamola Il tempo è se Praticamente bastano 20 minuti Un quarto d'ora Guardate se la mettiamo in quella maniera Il broccoletto Guardate come rimane Spettacolare Se si sente il profumo Riesce a sentire tutto Proprio la storia della rapa La massima fluorescenza Spettacolare È stupendo È stupendo Intanto questa è una pizza super digeribile Lavorata in questo modo Posso dire una cosa Elisa Io conosco Gabriele da tanto tempo Ma lui è proprio innamorato del lavoro che fa Innamorato dei prodotti che usa Perché lui è la gente che mangia Che sa mangiare Bravo Gabriele si è stato fantastico Fate la pizza come la fa lui Grazie a Nina per le tue domande Cositino così Bravo Gabriele Grazie È super